Meeting ad Ancona dell'ambito territoriale sulle politiche innovative nella gestione dei rifiuti. La tariffa puntuale, l'obiettivo prioritario. Sentiamo Manolita Scocco. È alla mole bambitelliana di Ancona che oggi si è svolto il meeting del progetto europeo Life Rethink Waste dedicato agli strumenti più efficaci per raggiungere gli obiettivi ambientali attraverso il coinvolgimento dei cittadini e l'introduzione della tariffa puntuale. Un'occasione per gli amministratori dell'Ata Rifiuti, ente che pianifica e progetta la gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel territorio della provincia di Ancona che con l'adozione del piano d'ambito chiama raccolta i comuni per illustrare le tappe di questo cambiamento. Sono quelle buone pratiche che abbiamo contenute nel nostro piano d'ambito di cui ribadisco la soddisfazione di essere arrivati al traguardo. L'abbiamo approvato pochi mesi fa e siamo la prima provincia nella regione Marche a raggiungere questo traguardo. Dicevo, all'interno del piano d'ambito abbiamo queste buone pratiche tra cui l'introduzione della tariffa puntuale. Una tariffa puntuale che significa, tradotto insomma, chi inquina paga quindi sarà modulata quando arriveremo alla gestione unica che speriamo, insomma, manteneremo le premesse inizierà insomma nel corso del prossimo anno su tutto quello che è il territorio della provincia di Ancona quindi avremo un gestore unico. In questo momento sono in fase di istruttoria le candidature per quanto riguarda la gestione in house provide quindi anche qui una gestione pubblica e dicevo, arriveremo a questa tariffazione puntuale che soprattutto ha un elemento importante che è quello dell'equità. Un modello già applicato in altre zone d'Italia ed Europa basato sul sistema paga per quello che butti e conosci quello che butti.